attenzione questo video presenta scenete preparabili di cuore di stomaco e sconsigliate alla visione chi dopo questo avvertimento continuerà la visione e pregate di non scassare dai avete capito buona visione salve gente bentornati in questo nuovissimo video comunque io sono l'amica dei serpenti e oggi andremo a sistemare pulire disinfettare il terraria di anagini e anche a sostituire la fibra di cocco sporca con quella pulita quindi io vi ricordo di passare da tutti i link in descrizione condividere il link del mio canale il link del video passare dall'instagram di rimini snakes il mio instagram e l'instagram del canale vi ricordo anche di passare dal link padron dell'account di 0demy se vi piace fortnite quindi non dire altro se non buona visione non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.